navigando sul web è stato trovato uno scatto abbastanza particolare che riguarda Alessia Marcuzzi quest'ultima che per il momento in vacanza con i figli e il marito appare letteralmente irriconoscibile tutto il pubblico è abituato a vederla sempre truccate con un outfit impeccabile qualche tempo fa però è stata pizzicata dai paparazzi mentre era in giro per la città vestita in versione casual e acqua e sapone praticamente l'artista capitolina non aveva un filo di trucco in viso e per questo motivo si notano delle rughe e fossette nella faccia e quest'ultima appare particolarmente più gonfia un'immagine particolare che dimostra ancora una volta che con e senza make up i personaggi televisivi possono mostrarsi un'altra persona cosa ne dite scrivetemi giù nei commenti il vostro parere